Il piano territoriale di coordinamento provinciale è uno strumento importante, ma sarà realmente utile solo se le amministrazioni di Corigliano e Rossano saranno in grado di cooperare. Ad affermarlo è Simona Diacovo, un è eletto della costituente nazionale del PD, secondo la quale mettere insieme comuni come Corigliano e Rossano significa non solo migliorare tutta una serie di servizi, ma anche favorire un processo di sviluppo delle imprese e delle tecnologie in modo da promuovere politiche tese ad accrescere i livelli occupazionali. In pratica, afferma Simona Diacovo, l'area urbana avrà un senso solo se sarà capace di realizzare precisi obiettivi, fra i quali occupazione e modernizzazione occupano un ruolo preeminente.